benissimo ci troviamo in un campeggio a cecina purtroppo ho incontrato un campeggiatore sardo ci può dire le sue impressioni di questo campeggio e questo campeggio si è abbastanza bene ma solo che ci sono i vari i vari bambinetti con le scarpe di plastica vanno nell'acqua un casino la madonna via il pecorino la mangiamo tutti insieme ci preghiamo di crappa e vino e va in culo ecco e ci dica un po com'è la fauna del posto ci sono stambecchi garratello zampatarrattarreri che sono molto buoni col formaggio tentarattarcioco ma no questa qui io intendevo un altro tipo di fauna quella fauna abbastanza rara ecco soprattutto per noi